Mistraiello, che cosa è successo in questa partita? Non è successo niente, è successo che di fronte avevamo una grossa squadra e che ho dato spazio a tanti ragazzi e tanti giocatori che avevano bisogno di mettere benzina nelle gambe. Ci credevi poco tu? Assolutamente non è questione di crederci, ma piuttosto di essere realisti. Cioè comunque che siamo una società giovane, composta da tanti ragazzi, che comunque si è prefissata agli obiettivi e questi obiettivi passano soprattutto per una salvezza tranquilla in campionato. Poi tutto quello che ne viene di più siamo pronti ad accoglierlo. Quindi testa al campionato in questo momento? Naturalmente è la nostra priorità. Grazie mille mister. A voi, buona serata. Antony Poglio, che cosa è successo a questo Massa? Niente, abbiamo incontrato una signora squadra veramente di una categoria superiore, professionisti in tutto e per tutto. L'abbiamo un poco sottovalutata come partita, partita infrasettimanale. Quindi, beh, c'è poco da dire. Il risultato parla chiaro. Ora testa alla prossima e dobbiamo fare in fretta a dimenticare questo risultato. Grazie mille. A lei. Sgalesio, grandissima prestazione e soprattutto un poker. Eh sì, ma sono felice per le squadre perché avevo bisogno di segnare e far vincere le squadre e avere una prestazione così perché tutti quanti mi hanno dimostrato tanta fiducia. Io ero in debito con loro e quindi sono felice per la vittoria delle squadre e per sbloccarmi. Ti aspettavi una vittoria così schiacciante? No, no. La verità è che no, però sapevamo che la dovevamo sbloccare subito. Per fortuna abbiamo seguito le ordini del mister e è andata bene. Adesso c'è speranza di continuare ancora questo percorso in Coppa Italia? Eh sì, stiamo aspettando che ci dicano, però l'importante è sempre uscire a testa alta. Ci abbiamo messo tutta, voglio ringraziare il Presidente e la società che hanno avuto fiducia in me in questi giorni, anche alla mia famiglia e a tutti i miei compagni. Complimenti per tutti. Grazie, un saluto. Come commentiamo questa vittoria? Ma abbiamo fatto una grande prestazione, volevamo a tutti i costi questa vittoria, l'abbiamo ottenuto, ci tenevamo tanto a questa qualificazione. Abbiamo parlato in settimana dopo aver fatto un'altra grande partita in casa, in campionato. e la società ci teneva tanto a questa competizione e l'abbiamo accontentato. Soddisfatto nella tua prestazione? Sono molto contento della prestazione di squadra, perché è la squadra che fa la differenza. Il singolo si esalta, sì, però noi dobbiamo guardare la squadra e pensare tutti nella stessa maniera. Un cammino che prosegue fortunatamente per voi in Coppa Italia? Questa è la nostra strada, le nostre vittorie ci danno ancora più fiducia. Questa è la strada da percorrere. Grazie mille.